Ho fatto un'idiozia. Non avrei mai dovuto allearmi con quel folle. E ora dove sono? Sono a Sarajevo, signore. Lui ha catturato il ragazzo. Oh, pare che questo ti abbia fatto molto male. No, aspetta, ripensandoci, è quest'ultimo che ti ha fatto più male. Senti, vediamo di chiarire la faccenda cucciolotto. Quale fa più male? Questo? O quest'altro? Di dritto? Oppure così, di rovescio? Sei un gran bastardo. Scusa, parla un po' più forte. Temo che un polmone ti abbia mollato e questo rende difficile l'oratoria. Non è stato un gesto molto carino. Il primo Robin era molto più educato di te. Ora ti darò una lezioncina in modo che tu possa seguire meglio le ormi del tuo predecessore. Anzi, no. Continuerò a picchiarti con il piede di porco. Si può sapere dove è Batman? Sta arrivando. Ma, signore, non credo che farà in tempo. Scusami, ragazzo, ma ora devo proprio andare. Direi che è stato piuttosto divertente, eh? Beh, forse è stato più divertente per me che per te. Ti ro' a indovinare, visto che sei così silenzioso. Ad ogni modo, fai il bravo bambino, finisci i compiti e alle nove a letto, mi raccomando. Ah, sì? Fammi un favore, quando vedi il tuo capo, digli... Ciao. 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 Oh, no. 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 Oh, no.